Signore, di dove vieni? Dalla Spagna. Finlandia. 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 Dalla Sicilia. Dalla Sicilia siete venuti appositamente. Sì, esattamente. Per il funerale, sì. Da che ora sei qui in fila? Quattro e mezzo. Mezzanotte. È da mezzanotte che sei venuto? Siamo i primi. Come è stato affrontare una nottata? È un po' pesantuccia per via del clima. Ci aspettavamo un po' più... Di caldo, sì. Di caldo, sì. E invece è arrivato il freddo. Sì, tutto insieme. Tutto insieme, ma siamo qui. Sì, tutto insieme. Sì, tutto insieme. Sì, tutto insieme. Sì, tutto insieme. Sì. Sì. dove il popo Benedetto è l'honore del nostro gruppo. Io dovevo operarmi, dovevo operare perché era una canale extrauterina accertata, le veda non erano alzate, quindi io stavo male. Invece poi questa notte tra il sabato e la domenica io mi dovevo operare poi il lunedì. Arriva questo segno, cioè io mi sogno rastringer perché non sapevo chi era, non avevo nemmeno seguito la sua elezione, nulla. E me lo sogno con questa mantellina rossa che mi stringeva la mano sorridente. Dico boh, la mattina invece vado in ospedale con mio marito con la mia borsa e il mio ginecologo mi dice guarda facciamo prima l'ecografia così ci rendiamo conto. E invece lui mi dice Gabriella alza, li vai a casa, è nel putero, vai. E ora ha 17 anni, quindi sono qui a rendergli grazie. Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo come comunità ecclesiale seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre. È il popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore. Vogliamo dire insieme, Padre, nelle Tue mani consegniamo il tuo spirito. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la Tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce. E' il ritorio per i nostri, per i nostri. Grazie.